50 kg di marijuana sequestrata e due persone arrestate. Questo è il bilancio di un operazionante di droga compiuta stamattina nel porto di Arbatax dai carabinieri della stazione Tortolì. I militari, che dipendono dalla compagnia di Lanusei, inserita nel comando provinciale di Nuoro dell'Arma, stavano conducendo un controllo di routine sui mezzi sbarcati nel porto dal traghetto Tirrenia. Nel corso di uno di questi controlli hanno bloccato e sottoposto a perquisizione un camion carico di legna. Sul mezzo sono stati trovati tre borsoni contenenti la droga che era stata confezionata sotto vuoto. In manette sono finiti un autotrasportatore di 36 anni, originario di Perdas de Vugu, e un operario di Lanusei di 57 anni. L'accusa è quella di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno calcolato che il valore sul mercato della marijuana ammonta a circa 400.000 euro. Al termine delle formalità di rito, i due arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Lanusei e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'operazione condotta dai carabinieri, si legge una nota, si inserisce nell'attività di prevenzione che la compagnia di Lanusei svolge quotidianamente per il controllo dell'area portuale di Arbatax, considerata strategica per l'economia dell'ogliastra.